Un auditorium pieno in ogni ordine di posti ha accolto il vertice a Lucca dei liberal democratici europei in vista delle elezioni del prossimo anno. Nella sala Tobino di Palazzo Ducale l'atteso incontro dei Lib Dem voluto per fare il punto sulle elezioni europee è sullo stato delle alleanze di quello che fu il terzo polo. Tra i presenti Andrea Marcucci, Oscar Giannino, Alessandro De Nicola, Paolo Vannini e l'eurodeputato e vicepresidente di Renew Europe Nicola Danti. Quella di Lucca è stata l'occasione per fare un'ampia valutazione del quadro politico. I liberal democratici sono comunque ancora in attesa di capire se al centro si possa formare un'alleanza sicura con Azione e Italia Viva. Io credo che ce ne sia assolutamente la necessità. Una grande rappresentanza e pesante rappresentanza dell'area liberal democratica italiana in Europa sarà determinante per il futuro. Se non ci dovessimo riuscire qualcuno ne avrà la responsabilità. Noi lavoriamo per quell'obiettivo e lo facciamo parlando con più persone possibile. Mi sembra che ci sia un riscontro importante. Presente all'incontro anche la consigliera comunale di Lucca, Silvia Del Greco, che in estate ha lasciato il PD per approdare al gruppo misto.